Eccoci qui ragazzi belli, buona domenica, ciao da Nino JFC, ovviamente in questo video parliamo del derby dell'amore, il derby di Torino, Juventus-Torino 2-0 che si è giocato ieri sera. Mi raccomando, sostenete il canale, in che modo? Sempre con il classico pollicione qui sotto e poi qui sotto i vostri commenti. Vi è piaciuto il derby? È stata una bella vittoria? In generale quali sono le cose che vi sono rimaste più nella mente in questo giorno dopo? Scrivetemelo qui sotto, io vi dico che cosa ne penso. Allora, sono ovviamente contento perché poi la regola, la sapete, è sempre la stessa, i derby non si giocano ma si vincono e questa è una cosa che spesso e volentieri accade per la Juventus anche perché, diciamo la verità, il nostro rispetto magari a quelli di altre città è un derby non particolarmente equilibrato, diciamo così, storicamente parlando. Poi ci sono stati periodi storici dove lo era di più o magari dove era anche il Toro davanti alla Juve, però insomma noi di solito abbiamo questa cosa di essere in un contesto diverso rispetto a loro. In ogni caso le ghiacchiere stanno a zero perché questi sono i discorsi sulla carta, poi però devi andare sul campo e devi vincere e la Juve ieri lo ha fatto. Io vi dico una cosa, sono molto contento perché ero un pochino preoccupato. In questi giorni, pre-partita, ero un attimino preoccupato per questa sfida, ma non tanto per il valore del Toro, insomma con tutto il rispetto però è una squadra che non sta messa bene, abbiamo visto anche questa prima parte di stagione tra l'altro divisa a metà perché erano partiti molto molto bene e poi dopo insomma hanno iniziato una serie di situazioni negative tra l'altro complice anche l'assenza insomma di vari giocatori su tutti, ovviamente spicca quella di Zapata, però comunque è un Toro in difficoltà e quindi non è che avessi poi particolarmente timore di questo aspetto, cioè di un Toro che magari viene, ti aggredisce eccetera. Temevo una partita tipo quelle che abbiamo visto in alcuni momenti di questo inizio di stagione, parlando di Juventus, quelle partite dove l'avversario si mette dietro, ti aspetta, tenta se è possibile qualche ripartenza ma più che altro si mette lì dietro, ti affida il pallone e tu con questo pallone giri in maniera soprattutto nel verso orizzontale del campo, avanti, indietro, destra, sinistra, ma non concludi nulla. Ci sono state partite o spezzoni di gara di questo tipo per noi, io temevo fortemente questa roba qui, anche immaginando un Toro che magari arriva lì e si mette lì dietro nella speranza di anche raccattare un punticino che di questi tempi, considerando come sta messo il Toro, non è male, insomma. Poi addirittura magari un contropiede fatto bene ci scappa un risultato positivo, il Toro ci campa di rendita praticamente per settimane e settimane. Quindi c'era proprio questa sensazione di difficoltà, ecco, non è che avessi poi pensieri così negativi, però di difficoltà. Invece non è stato così, non è stato così perché la Juve si è messa bene sul campo, il Torino effettivamente ha subito la Juve, ma qual è stato il fattore che secondo me ha impedito il timore che avevo io? Il fatto che l'abbiamo sbloccata presto, diciamo presto, insomma, era il diciottesimo, diciannovesimo minuto con il gol di UEA. Quello è stato fondamentale perché è vero che poi la partita, come dire, non si è aperta totalmente, no, non è che la Juventus poi ha affondato il colpo e ha chiuso la pratica in poco tempo. Questo è un appunto che bisogna fare, tra l'altro, alla nostra squadra, però è ovvio, è ovvio che la partita poi è andata a mettersi su un binario favorevole e la Juventus ha mantenuto il suo status di superiorità nei confronti dell'avversario. Io ve lo dico, per tutta la durata del match non ho mai temuto di non portarmela a casa, da quando l'abbiamo sbloccata in poi, intendo dire. Non ho mai avuto proprio la paura di dire adesso non la portiamo a casa. Poi, ovvio, può succedere sempre qualsiasi cosa, puoi farti un autogol, puoi fare una papera, puoi controllare un pallone, scivolare e aprire un'autostrada all'avversario. Può succedere di tutto, però, sinceramente, vedendo la Juventus ben concentrata e vedendo anche un Torino per lunghi, per quasi tutta la gara, completamente inerme, io poi non le seguo le gare del Toro, sinceramente non so se è questo il Torino attuale, perché se è questo, cioè, veramente, stanno rovinati, secondo me, comunque non ho mai avuto questo timore. Però, però, proprio perché esistono le beffe, diciamo, anche quando proprio non te l'aspetti e non te lo meriti, questa squadra deve un attimino trovare o ritrovare, perché è una cosa che ha avuto nella prima parte della stagione, quella lucidità, quel cinismo di ammazzare le partite, perché la partita, per come è stata oggi e per il fatto che tu sei riuscito a sbloccarla al diciottesimo minuto, questa è una gara che tu al 60-65 devi già aver messo in almanacco, cioè il secondo e il terzo gol devi anche averli già fatti e ti fai gli ultimi 20 minuti in modalità scampagnata, mettiamola così, capito? Invece di tenerla comunque in bilico fino al, mi pare, 84esimo quando poi ha segnato Ilditz. Questo è l'appunto che bisogna fare, bisogna ritrovare quella cosa che, ripeto, c'era stata anche in altri tratti di partite del passato, insomma, no? Quelle delle primissime partite di campionato, ma anche in Champions League col PSV quando trovavamo la rete e poi andammo a creare occasioni su occasioni. Ecco, perché poi ieri abbiamo fatto i gol, abbiamo fatto le azioni, però, come dire, potevamo fare meglio, secondo me potevamo fare ancora di più, perché c'era proprio il campo per farlo, diciamo. Comunque, alla fine, 2-0, Ilditz, numero 10, linguaccia. Questa è quella roba che succede quando poi il calcio si diverte a scrivere le situazioni come le sceneggiature dei film. Tante volte mi è capitato di fare questa metafora, no? Anche perché sono due mie passioni, no? Il calcio e il cinema. Se volete, non tutti magari se lo ricordano o lo sanno, io ho due canali YouTube o anche uno dove parlo di cinema, in particolar modo. Qui sotto c'è il link per seguirmi anche di là. E comunque queste due cose ogni tanto si incontrano. E infatti, ieri, compleanno di Alessandro Del Piero, 50 anni per Alessandro Del Piero, e segna, diciamo, quello che viene un attimino designato come un suo erede, no? Non solo per il numero che ha sulle spalle, perché dopo Del Piero anche altri hanno indossato quel numero, però un ragazzo molto giovane, anche come tipo di gioco di ruolo, una mezza punta, anche se da noi sta facendo più l'esterno, numero 10 sulle spalle, la linguaccia nell'esultanza, e vabbè, come fai a non vedere, no? Una sorta di ritorno al futuro, di versione più anziana, versione più giovane. Nel giorno del compleanno di Del Piero segna Kenan Hildiz con un bel gol, in tuffo, sul secondo palo, quindi anche proprio un modo di colpire la palla molto intelligente. Va detto che era, diciamo, tranquillo, nel senso che gli è arrivata quella bellissima palla di Consesale, lui ha avuto tutto il tempo di studiare la situazione ed è stato perfetto. Quindi, ragazzi, per dire, insomma, sulla partita, ottima, ottima. Poi ci sono state anche delle note non positive, per esempio, nella prima parte di gara un po' Savona, è stato un attimino più impreciso, anche se poi è cresciuto nel corso del match, e poi Blaovic, che è stato estraneo, praticamente, a questa gara, tant'è che, ecco, anche in questo caso è stato sostituito da Tiago Motta, ma non mi sento in questo caso qui di criticare Tiago Motta, perché rispetto alla partita con il Lille, questa era una situazione dove ci poteva pure stare il cambio. Per quanto io spero di vedere a gennaio un attaccante a prodare alla Juventus come alternativa a Blaovic, in modo che se il serbo è in partita dove a Napoli, in napoletano, si dice non accocchia niente, cioè nel senso proprio non riesce a fare nulla di buono, uno comunque può mantenere, diciamo, il gioco con una punta. Però ieri Blaovic non è riuscito a combinar niente e questo fa parte della sua storia, almeno, la storia calcistica almeno fino ad ora, soprattutto parlando di fase bianconera, di alternare partite buone a partite meno buone a partite da fantasma, voglio dire, perché con il Lille ha segnato il rigore, ma è stato un giocatore proprio presente, tant'è appunto, ripeto, che mi sono arrabbiato per la sostituzione, ieri è stato totalmente estraneo alla gara e questa, ragazzi, è una cosa che tra l'altro vedo che adesso in tanti stanno commentando e tra l'altro molti stanno commentando andando a puntare il dito proprio contro Blaovic, contro queste sue caratteristiche, questo suo modo di essere ed è bello, voglio perché fino alla stagione scorsa questi problemi non erano visti, o meglio erano visti, ma era solo una questione di guida tecnica che, come dire, impediva a Blaovic di segnare con regolarità in ogni partita o anche proprio di essere sul pezzo in ogni partita. Adesso, magicamente, sul banco degli imputati ci finisce proprio Dusan Blaovic, però, insomma, meglio tardi che mai, potremmo dire, e no, perché questo è un po' quando si deve parlare in maniera paracula o meno. Comunque, comunque, vabbè, comunque, al di là di Blaovic, bella partita, i due gol sono stati due gol molto belli, ho invidiato molto Timothy Weah perché quello penso che sia il tipo di gol che tutti i calciatori sperano di trovare, insomma, ogni due per tre, diciamo così, perché poi sì, esiste il tiro da fuori, la sforbiciata, l'incornata, così, però il tap in, bello, con quella porta aperta, con quel pallone che non va nemmeno veloce, quindi non sta schizzando, sai che magari lo tocchi male e ti schizza fuori, ah, e lo devi appoggiare in rete, è una godura, secondo me, per un giocatore. Sono molto contento per Timothy Weah, molto, perché io sono rimasto molto deluso dalla scorsa stagione di Timothy, nel senso che mi ha fatto piacere il suo approdo, poi non lo ritenevo, come non lo ritengo tuttora un fenomeno, però l'anno scorso è stato veramente un oggetto misterioso, un oggetto non identificato, che non è riuscito a dare il nulla, praticamente, alla squadra nella stagione scorsa, invece quest'anno, molto più sul pezzo, infatti gode della stima e della considerazione del mister, e tra l'altro quattro reti, ne aveva fatta anche un'altra che poi è stata annullata per quel controllo con la mano, però quattro reti, che non sono poche in questo inizio di stagione dove, abbiamo detto, non riusciamo a trovare la continuità realizzativa da molti, a parte Vlaovic che è quello che ne assieme di più, però pure lì a livello di continuità non è che ci stiamo poi più di tanto, quindi molto contento per Tim, ma se Timothy ha avuto la possibilità lì di arrivare e spingere quel pallone in rete è grazie all'incursione di Cambiaso, a quello sfondamento di Cambiaso, a quel vedere quel binario e buttarsi dentro e andare poi alla conclusione. Quella è stata una cosa bellissima, un'iniziativa molto intelligente di Cambiaso ed è una cosa su cui bisogna battere, poi non è semplice, non ci saranno sempre questi binari aperti, queste praterie aperte, però ecco, io apprezzo tantissimo la duttilità di Cambiaso, però ok, gli si chiedono tante cose, ma secondo me bisogna farlo specializzare in un ruolo, che è questo qui di oggi, l'esterna a sinistra, e farlo lavorare tanto per fargli tirar fuori il meglio possibile in quella posizione lì, perché è un giocatore per me molto valido. Poi bisogna anche sottolineare quando non fa delle partite di buon livello, perché bisogna sempre sottolineare il bene e il male, però è un giocatore che mi piace ed è un giocatore che, insomma, lì a sinistra può fare delle belle cose. Per quanto a me non dispiace per esempio Kabal, ma è un giocatore che è dietro, Cambiaso, come bravura e tutto, però Cambiaso lì comunque ci deve stare, soprattutto per sfruttare gli spazi che si possono creare grazie a Hildiz, perché Hildiz non mi piace particolarmente da esterno, o meglio, sapete, no? In alcune partite sì, in altre no, dipende anche un po' da come si mette la gara e da come ci lavora l'avversario su di lui, però comunque con Hildiz che gioca lì su quella stessa fascia, molti giocatori vengono attirati lontano, no? Perché devono star dietro a Hildiz. Hildiz ha questo potere magnetico, perché è un giocatore pericolosissimo, quindi spesso viene raddoppiato se non triplicato. Ecco, questo però che significa che si creano dei buchi e se in quei buchi hai un Cambiaso che sfonda, per me è tanta roba. Comunque ieri molto bene e questo è stato l'1-0. Il 2-0? Logatelli che imbecca per Concei Sao, adesso diamo una nota anche su Logatelli. Concei Sao, ennesimo assist della stagione, questo folletto, questa scheggia impazzita che è utilissima sia dal primo ma forse, forse, addirittura ancora di più a gare in corso, nel senso, no? Questa cosa che dico spesso di poterlo sfruttare anche con l'avversario più stanco e meno lucido e lui arriva e ti manda al bar, ti fa venire i giramenti di testa e poi pennella. Quella palla così bella, quel sospiro direi che Ildiz va bene a colpire. Sono stato d'accordo con la scelta di non partire con Concei Sao titolare o meglio l'ho vista e non l'ho contestata, poi non ho visto sui social se qualcuno ha contestato questa cosa perché appunto non avendo ancora alcuni pezzi, tra mercato e infortuni e avendo questa cosa comunque di, magari Tiago pensa, no? A dire io una cosa buona in panchina me la devo tenere perché se mi serve posso sfruttarla come carta, vedi un po' Ildiz per esempio che non partì titolare contro l'Inter, allora Concei Sao può essere anche un giocatore di questo tipo. È ovvio che con per esempio UEA che sta bene, c'è questa possibilità di alternare nel momento in cui finalmente tornerà anche Nico Gonzalez, insomma ci saranno più scelte. Comunque, bene così, ho citato Locatelli, Locatelli sta crescendo parecchio, sta facendo bene, bisogna sempre andarci con i piedi di piombo, ma noto in Locatelli alcune partite o fasi di partita dove alza la testa, dove si prende anche la responsabilità di giocare in verticale e quindi di trovare i corridoi giusti. Locatelli non è Andrea Pirlo, ma perché nessuno è Andrea Pirlo, a parte Andrea Pirlo, però è un giocatore che queste cose qui le può fare e le deve fare e deve crederci in questo. Quindi mi è piaciuto, mi è piaciuta oggi la sua partita, mi è piaciuta la partita di Duram che sta crescendo molto e si sta veramente integrando in questa squadra. Ecco, è stato chiesto anche a Tiago Motta nel post gara, Locatelli, Duram e davanti, no? Una sorta di diamante o di freccia se vogliamo, Copminers con estrema licenza di muoversi, di allargarsi eccetera. La Juve ha trovato il suo centrocampo? Ma vediamo, non diciamolo troppo forte perché poi Tiago all'improvviso li mette fuori, a parte Copminers che quello gioca pure da infortuna. Mi stupisce che non l'abbia messo anche con l'agosto la dolorante perché si vede che ci tiene ad averlo sempre in campo, però dico magari poi già dalla prossima non vediamo più Locatelli e Duram e vediamo per quattro partite di fila Fagioli e McKennie, che sono due giocatori validi, sono due giocatori assolutamente che danno a questa Juve, però io l'altro giorno ero in live dall'amico Frank e dicevo questa cosa, bisogna trovare anche un po' di continuità nello schierare determinati giocatori, determinati proprio reparti in modo che questo blocco si conosce sempre di più, sviluppa anche un po' di conoscenza a memoria e di caratteristiche e secondo me ne beneficiamo. Quindi questo è un centrocampo che per ora è valido, poi dipende sempre dal contesto, dall'avversario eccetera. Chiudiamo con una nota minima sulla questione del settore ospiti, stanno circolando le immagini da ieri sera, da stamattina del settore ospiti dello stadium devastato, quindi seggiolini spaccati, bagni lì distrutti eccetera. Complimenti, facciamo i complimenti a chi non sa stare al mondo, qui non è nemmeno una questione di tifoserie, tifoserie di qua di là, non sapete stare al mondo, motivo per cui spero che ci siano delle stanzioni che possono essere magari economiche nei confronti del toro, non so come verrà gestita la cosa in modo che i lavori per rimettere tutto a posto ce li paghiamo ovviamente così e che poi si prendano dei giusti provvedimenti perché se non sapete stare al mondo ovviamente non è che dall'alto possono far sì che ci sappiate stare però almeno vi possono non fare stare negli stati, negli stati che non sono nemmeno i vostri o comunque nel senso della vostra squadra, quindi se avete da sfogare, se magari non lo so fate una vita brutta che vi porta a vivere in questo modo quello che comunque è il calcio, il tifo e così andando a rompere i coglioni, a spaccare la roba fatevela a casa vostra o nello stadio vostro, però no voi lo fate lì perché dici no sono allo stadio ma gli faccio il dispetto, è proprio povertà, povertà mentale intendo dire e bestialità, comunque io vabbè non devo esagerare perché sennò poi dice no allora anche i tifosi della Juve non dovrebbero, a parte che se i tifosi della Juve vanno in qualche stadio e fanno quello che hanno fatto sono minchioni e bestie alla stessa maniera sia chiaro, però cioè nel senso certo volte mi verrebbe da dire sai che c'è io il stato l'ospite cioè non lo apro proprio, cioè ti chiedo proprio di non farmeli venire, lascio i bagni rotti, i sediolini tutti spaccati e quindi dico purtroppo non si può entrare, ci metto i cosi lì, quei cosi rossi di plastica quando ci sono i lavori in corso, sapete i cantieri e lo lascio così in modo che evitiamo che venga gente a sfogarsi, vabbè comunque insomma sono oscenità di minchioni e basta, poi vedremo lo sviluppo di questa cosa, in ogni caso ditemi la vostra qui sotto, ci vediamo nei prossimi video, la Juve ha vinto, è una buonissima domenica e come sempre fino alla fine.